Ieri è iniziato l'anno educativo e scolastico 2020-2021 nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali. Una ripartenza che arriva dopo mesi di chiusura e che necessariamente dovrà rispettare alcune norme per prevenire il contagio da Covid-19, come entrate e uscite in orari contingentati, misurazione della temperatura e sezioni bolla. Intanto la felicità di ricominciare dopo il lockdown che ci ha tenuto appunto divisi, la felicità di rivedere i nostri bambini, di riprendere contatto con loro, con le loro famiglie, e quindi è stata una gioia immensa. L'emozione è stata tanta sia da parte di noi insegnanti che da parte delle famiglie e anche dei bambini stessi che avevano tantissima voglia di rincontrarsi e di riprendere la loro normalità. Sta andando bene, i genitori sono tutti rispettosi. Noi siamo tutti molto contenti, si può dire che siamo emozionati, perché rivedere i bambini che giocano e sono tutti tranquilli e sereni per noi è la cosa più importante. Il servizio di rifezione per i nidi è già attivo e da lunedì prossimo riprenderà anche per l'infanzia. Per quanto riguarda la frequenza, al momento per nidi e infanzia non si segnalano particolari defezioni. L'attenzione del comune è rivolta a lunedì prossimo, quando ripartiranno primarie e secondarie, anche alla luce di una sorta di sondaggio circolato sul social WeChat in questi giorni, secondo il quale gran parte della comunità cinese avrebbe timore di rimandare i propri figli a scuola. Noi a oggi, nelle scuole comunali, non abbiamo i numeri importanti che leggevamo sui giornali di qualche giorno fa. È una cosa che abbiamo già messo in attenzione sia per le scuole comunali, sia per gli istituti statali, quindi per gli istituti comprensivi e per le superiori. Stiamo attenti a questo, anche perché l'abbiamo già ribadito insieme all'assessore Mangani. è un diritto e un dovere, soprattutto da sei anni a sedici, c'è un obbligo scolastico.